In questo caso ci sono io e c'è anche Giuseppe Peluzzi che magari se puoi venire anche te così abbiamo voluto fare una piccola introduzione. Come agenzia è anche produzione cinematografica e televisiva perché è un po' quello che è il prossimo argomento anche qui sinteticamente diamo solo dei piccoli input. Noi ci occupiamo fondamentalmente di tutto ciò che riguarda l'ideazione di un prodotto audiovisivo quindi da uno spot come dicevamo all'inizio, da uno spot piuttosto che da un cortometraggio, piuttosto che da un format televisivo, piuttosto che da qualsiasi altra forma audiovisiva. Allora indubbiamente dal titolo, dalla sceneggiatura, alla produzione esecutiva, realizzare un format tv perché? Perché spesso ci capita, io prendo sempre dall'esperienza che viviamo poi in realtà dentro l'agenzia, molti ragazzi o non ragazzi, perfetto forse non l'ho passata nella ragazzi o non, comunque ci mandano, ci arrivano queste richieste di voler proporsi con delle idee, con delle idee di format, con delle idee di programmi quindi televisivi, chi più interessanti, chi meno interessanti, eccolo qua, eccoci qua, chi più, chi meno interessanti, però in realtà in molti casi ci poniamo bene ma molti non comprendono cosa bisogna fare per realizzare un format televisivo, sembra quasi dire ho avuto l'idea del secolo, vero? Tu interrompimi così ci portiamo un po' di, come dire, ci interfacciamo insieme. No, semplicemente non ci sono idee, idee sviluppate bene, soprattutto non c'è un'idea che porrebbe essere da business fatta bene, quindi semplicemente questo è il problema. Io aggiungo, questa è una bella, come dire, forte, tra virgolette, provocazione che sia di stimolo magari, io aggiungo, grossomodo non si ha l'idea generale di quello che possa essere il pensare a un'idea, quindi un concetto astratto e cosa c'è da fare per poterlo realizzare. Ecco, questo è uno scoglio grande, per cui quando si fa una fase di ideazione è importante poi che si abbia ben chiaro a cosa si va incontro per poterla realizzare. Ecco, come faccio un salto indietro, come Alessandro appunto, sì vorrei fare il timelapse dell'alba in Groenlandia, sì però ci devi andare, per dire no? C'è bisogno di un budget per prendere l'aereo e partire, devi sapere quando, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, il titolo è produzione esecutiva perché? Perché poi è un'altra cosa che molti confondono, anche questa parola di produzione. Spesso, ah ma voi siete della produzione, punto. Beh, no, iniziamo subito a distinguere che ci sono diverse produzioni, no? Quando sentiamo un film è stato prodotto da produzione, si intende chi finanzia, produzione esecutiva, ovviamente il braccio, quindi coloro, la troupe, tutto lo staff che poi esegue il lavoro. E qui c'è uno spartiacque, c'è il produttore, quindi la persona. Esatto, adesso ci arriviamo, infatti. Partiamo poi subito, esatto, tu sei molto più, come avete già visto, le due personalità sono ben distinte. Io chiacchiero, chiacchiero, tu invece vai subito al sodo. Però è giusto arrivarci. Format TV, ovviamente, è un modello che definisce più cose, ma adesso questa parola ce l'hanno in bocca tutti, no? Format, format, ogni cosa, anche un piccolo voglio fare, una brochure, un format. Ok, sì, però, che cos'è questo format TV? È fondamentalmente un modello, ci sono anche qui delle regole, come dicevamo in Madalina, è importante studiare delle regole, che ovviamente adesso non possiamo elencare, ma per questo ci sono anche corsi di formazione che lo fanno, noi lo facciamo, ma ce ne sono anche altri, tant'è vero che saremo coinvolti a novembre anche a Macerata per fare un intervento di questo genere, ma durerà quattro ore, solo per parlare di un aspetto. E' un modello che definisce l'aspetto concettuale, partiamo sempre dal concetto di quello che vogliamo effettivamente comunicare. Non solo, ma ci sono delle scelte tecniche da sapere affrontare. Io voglio che questo format sia ambientato lì per far riprendere, non so, dall'alto, abbiamo uscito la Groenlandia, torniamo con la Groenlandia, beh sì, però l'aspetto tecnico, quali sono le difficoltà, e soprattutto le strumentazioni, il personale che è necessario coinvolgere. E stilistiche, che questo ovviamente fa la differenza di un'idea, e anche poi dal punto di vista di produzione esecutiva, lo stile che si deve dare, perché anche una stessa idea, lo stesso concetto, è come anche in un film, si scrive una sceneggiatura, però è anche altrettanto importante il ruolo del regista, che ti fa di un film totalmente un altro film, se si hanno due stili differenti. Quindi anche nel caso di un format è così. Io vado, tu mi interrompi? Vai, vai, così. No, è bello dire anche che, vabbè, la parola format è che sia riproducibile il progetto, quindi ok avere l'idea, ma bisogna anche capire che magari in diversi posti si possa riprodurre la stessa cosa. Quindi non è detto che un'idea avuta si possa riprodurre in più posti, in più nazioni, eccetera. Insomma bisogna avere un'idea lungimirante. Esatto. Infatti per fare proprio una carrellata, diciamo, di input generici, indubbiamente, qui abbiamo messo in questa slide appunto le varie fasi, io ho messo tra virgolette di lavorazione, perché ripeto, la produzione esecutiva è quella che lavora in campo, quindi la creatività la esprime non tanto nel concetto quanto nella realizzazione delle immagini e di tutto quello che c'è intorno. Nella fase di ideazione, quando si pensa a dover ideare un format, secondo noi la prima domanda da farsi è scegliere l'originalità di un'idea, quindi un qualcosa, pensare, ma questa cosa è stata tra virgolette mai fatta, anche se nel mio parere l'acqua calda ormai è stata già ben scoperta, è sempre il modo come si fa un qualcosa che poi si differenzia da un'altra. Però vogliamo prendere l'originalità di un'idea, di un progetto, oppure vogliamo investire nel nostro tempo, le risorse e il tutto, all'adattamento di un format già esistente, che è un po' quello che diceva anche Giuseppe, i vari format che vediamo dal Masterchef, anche se è molto molto blindato nella sua costruzione, lo si propone in diverse nazioni, per cui in diverse nazioni sono diverse persone, diverse tipologie di telespettatori, diverse culture, che quindi, torniamo sempre al discorso della comunicazione e del messaggio, che possono recepire quel progetto, quel dialogo tra due ospiti, piuttosto che una sfida in maniera differente, perché l'aspetto culturale è fondamentale nel momento in cui ci si pone nell'attenzione di dire voglio fare un format che parli di questo. Ok, il proprio gusto, però poi bisogna sempre confrontarsi con chi poi vedrà questo format, quanto possa interessare. Quindi, grosso modo, quando si parte di azione di un format, e chi la poi la deve produrre, quindi finanziarla e poi farla realizzare, dice dove voglio investire le mie risorse? su un progetto originale, totalmente nuovo, o su un riadattare, quindi quanti altri fondi, adesso Masterchef per dire quello magari più conosciuto, ma ci sono tantissimi altri format, che magari stanno facendo successo su altre nazioni, e magari si pensa di portarli anche qui in Italia. Allora, a quel punto bisogna investire sul riadattamento, per poterlo essere compreso e che possa fare visibilità anche nella nuova nazione, diciamo così, grosso modo. Ovviamente prendete le mie parole come sempre generiche e spunti di esempi. Poi c'è la parte che ci piace ancora di più a noi, è la progettazione esecutiva, cioè mettersi lì, stabilito che abbiamo pensato a questo format da realizzare in Groenlandia, difficilissimo, semplifichiamoci, va. Una sfida, magari, esatto, sarebbero dei costi troppo esagerati. Vogliamo realizzare una sfida tra concorrenti, vogliamo realizzare questa sfida, la vogliamo realizzare dove? Allora, il progetto, iniziano le varie domande che ci si pone, se è ambientato in uno studio oppure è ambientato in esterna, cosa devono fare i vari concorrenti, eccetera, eccetera. Quindi nel pensare questo, bisogna unire l'aspetto creativo, di fare un qualcosa che non sia noioso, che tenga l'attenzione ovviamente alta, dall'aspetto tecnico. Come dicevo prima, possiamo inventarci il format più bello del mondo in Groenlandia, ma mandare una troupe di, faccio un esempio, 20-30 persone in Groenlandia a farle stare lì un mese per tirare fuori una puntata, e insomma il nostro investitore dice scusate ma mi costa più l'impresa e tutto il guadagno che ne posso tirare fuori. Quindi la concretezza, tornando alla questione iniziale, molte idee sono belle, però poi vanno anche visionate dal punto di vista concreto, cioè quanto può essere vendibile anche un format di questo genere, quanto possa essere anche replicabile, come dicevi, e quindi anche riadattabile in altri contesti sociali. E quindi, qui simpaticamente, ho messo facendo i conti con il budget, che ahimè quando c'è un produttore dietro, a meno che non siamo noi, vogliamo fare piccoli format web, e molti stanno, come dire, prendendo questa strada, nel senso che anche i ragazzi o videomaker con veramente low budget riescono a tirare fuori dei prodotti audiovisivi che possano essere, come dire, possono prendere piede, no? Però ovviamente stiamo parlando di un discorso di format televisivo, per cui con la diffusione televisiva. E qui è sempre il tallone da kill, il fatto di poco budget, perché comunque per presentare il progetto bisogna fare una puntata zero, si chiama così puntata pilota. e bisogna farla al meglio. Non serve raccontare per forza tutta la puntata, ma fare una sintesi fatta bene è importantissima affinché gli investitori o l'investitore capisca di cosa sta trattando la... Sì, indubbiamente, esatto, nel momento in cui si vuole essere, facciamo così, autori del format, voi adesso tornate a casa, vi viene un'idea brillante. Mi fa piacere se ci chiamate, lo vediamo insieme, ma a prescindere da questa battutaccia, viene in mente un'idea. Quest'idea ovviamente deve essere, come dire, adattata appunto a tutte quelle che possono essere le varie esigenze. Nel discorso televisivo è indubbio che per noi è come un curriculum fondamentalmente che si presenta a un'azienda, quando molti ci mandano, ad esempio, curriculum di grafici e ci arriva il curriculum europeo, un attimino, non vi nascondiamo, che diciamo, ok, poi noi siamo molto attenti, quindi andiamo a vedere i lavori fatti, ce li andiamo a cercare anche sui social, perché, ahimè, è una cosa dove tutte le aziende vanno a guardare, la concretezza del quotidiano, però se tu sei un grafico e ti proponi come grafico, mi devi stupire un pochino anche sul curriculum. E così anche le grosse produzioni o distributori di appunto format. Un conto è presentarsi con un plico descrittivo di testo che spiega il format e quindi lui stesso leggendo deve immaginarselo con tanto magari anche di cose che possono essere non corrispondenti con la tua idea, ok, almeno dal punto di vista visivo, ovviamente l'idea è quella scritta e rimane tale. Un conto invece se ci si presenta, oltre all'idea scritta, per cui ho questo progetto, voglio che lo analizzate per vedere se è possibile produrlo e quindi anche poi diffonderlo ad esempio nella vostra emittente o quel che sia, un conto è mostrargli anche un trailer, una puntata pilota, una puntata zero, come si voglia dire, sarebbe l'integrale, ma nell'ottimizzazione magari anche dei costi iniziali, se si vuol partire, basterebbe realizzare un trailer, un video, che in sintesi faccia capire almeno i vari momenti di questo format, quindi punti salienti, in cosa consiste, far capire tutti i vari punti più importanti. In pochi minuti abbiamo reso l'idea concreta di quello che è il nostro progetto, quindi c'è più probabilità che questa venga accolta e quindi di conseguenza anche finanziata o diffusa. Ovviamente prima di arrivare quindi alla produzione esecutiva di un format, prendere tre camere e iniziare a fare, ovviamente c'è un lavoro molto complesso, c'è anche una preproduzione, perché? Perché bisogna, io qui ho sintetizzato due paroline allestimento o sopralluoghi, per ovviamente a volte quando si sintetizza si tralasciano purtroppo fin troppe cose, però già per creare una differenziazione, cioè dobbiamo allestire una scenografia perché prevediamo di realizzarla in studio, voglio fare un format all'interno della sala Tosti, benissimo, c'è una scenografia da realizzare, altrimenti sarebbe molto molto piatto questo ambiente, anche se voglio dire non è così male questo posto, anzi. Sopralluoghi invece nel caso in cui il format si svolga all'esterno, mi viene in mente adesso, mi è venuto in mente Donna Avventura, no? Effettivamente ogni luogo è ben diverso, si parla di girare il mondo, per cui anche lì non è che dici ok prendiamo la macchina, noi vediamo questi ragazzi che arrivano in macchina e scoprono il posto e sai quanti sopralluoghi sono stati fatti prima di pensare a quanti centimetri la macchina deve fare per passare su determinate zone, ovviamente con tutti gli interessi di mostrare a volte anche degli ambienti perché magari c'è l'interesse di un finanziatore o quel che sia e anche della facilità di realizzazione delle immagini perché ecco torniamo lì vogliamo fare la ripresa sul K2 diventa un problema portarci una troupe, vogliamo fare la ripresa su un contesto molto più semplice il gioco è fatto quindi la preproduzione analizza e fa tutti questi aspetti preliminari cioè prima di arrivare a dire registro uno staff completo di persone deve organizzare, pianificare, valutare, strutturare e far sì che venga ovviamente rispettata la struttura dell'idea iniziale e poi finalmente dopo aver sviscerato tutti questi aspetti abbiamo la completa fattibilità dell'idea e quindi siamo sicuri che effettivamente quello che è stato scritto possa essere in un certo modo anche come si fa negli spot ancora di più realizzato sotto forma di uno storyboard lì è davvero indispensabile cioè quello che vediamo negli spot pubblicitari viene prima disegnato su carta indubbiamente quindi inquadrature movimenti di camera movimenti di personaggi tagli, musica e quant'altro viene tutto messo come già su una linea temporale quindi su carta già puoi vedere tutto nel caso di un format ci sono dei grossi momenti da analizzare indubbiamente sapere già quali inquadrature quali appunto situazioni devono essere riprese per poi non far mancare nulla in base sempre alla struttura iniziale che appunto questa sinossi è anche dettagliata e poi la scaletta di produzione eccetera eccetera che tutto non sia non esca fuori dai parametri stabiliti perché immaginiamo anche tutti questi passaggi quante persone passano dall'ideatore dall'autore del format a coloro che devono poi organizzare il tutto a coloro che devono poi riprendere al regista all'operatore all'assistente quindi tutti questi passaggi non si devono in questi passaggi non si deve perdere nulla indubbiamente quindi quanto più si è precisi e tecnici quanto più il risultato finale è quello sperato quindi preparazione ed esecuzione ecco perché e qua si apre giustamente un altro mondo dove ci entra ovviamente la competenza oggi abbiamo visto principalmente dell'aspetto fotografico ma nell'aspetto video ovviamente i ruoli sono sono tanti vado avanti perché poi li vediamo nella prossima slide produzione e post produzione così concludo queste fasi diciamo sintetiche post produzione abbiamo prima ascoltato Stefano eccolo lì pensavo che eri dietro quindi sei là ad ascoltarmi correggimi se sbaglio a questo punto e io ho fatto così Stefano non so se ti piace montaggio audio e video perché anche è certo perché molte volte dice audio visivo montaggio audio visivo metti lì sulla timeline e via no non è proprio così io lo dico ovviamente perché non so il vostro livello di conoscenza sul settore quindi io mi pongo sempre che si parte da zero ovviamente il discorso di un montaggio è fatto anche da chi monta e sistema fondamentalmente l'aspetto audio che è fondamentale il parlato la musica i momenti degli effetti quando vedete un programma vi concentrate solo su aspetto audio inizierete a notare tantissime cose così come nell'aspetto video un format ancora di più è composto anche poi dipende ovviamente da programma e programma è composto non solo dall'immagine ripresa ma anche da sottopancia titolazioni grafiche animate slide che magari vanno perché bisogna presentare una piccola ripresa esterna quindi ci sono tanti momenti che creano dinamismo e che quindi coinvolgono non solo un montaggio video delle riprese ma anche l'inserimento di elementi grafici sigle infatti dimenticavo la prima cosa la sigla di un format l'aspetto musicale molti format giustamente hanno le proprie colonne sonore ci vorrebbe una conferenza solo per questo mondo sto balzando quella poi ovviamente voi fermatevi fermateci a questo punto l'aspetto musicale è veramente forte importante addirittura ci sono soluzioni in cui si aumentano le frequenze per attirare l'attenzione questo anche pubblicità succede o soluzioni contrarie in cui si abbassano le frequenze di 8 hertz per alimentare la famosa gandola pineale quindi l'emozione insomma ci sono tante tecniche per prendere l'emotività assolutamente questo esatto vale in un format così come vale tantissimo in uno spot pubblicitario dicevi appunto giocare sulla frequenza su 8 hertz che è impercettibile l'orecchio ma a livello proprio cognitivo psichico umorale ecco anche crea lo percepiamo proprio nel nostro corpo quando la pubblicità ci dà fastidio spegna abbassa cambia cioè non è che siamo impazziti siamo andati fuori di testa è giusto non è il volume che aumenta non è il volume dell'audio perché noi potremmo anche ascoltare la musica che ci piace di uno spot tutto volume non ci dà fastidio ma c'è questo gioco di frequenze che creano fastidio e quindi in quel momento un modo per attirare l'attenzione diversamente come magari invece in cure terapeutiche su musicali si vanno ad abbassare queste frequenze per creare uno stato di benessere quindi non si gioca sul volume ma si gioca sulle frequenze proprio e così via insomma gli aspetti sono tantissimi sui colori tantissimi io ho fatto poi una piccola come dire giusto per vederla insieme poi ripeto interrompeteci di figure professionali che grosso modo ovviamente differenza sostanziale forse era da porcela anche un po' all'inizio produzione esecutiva cinematografica e televisiva due mondi completamente opposti figure che possono essere con i ruoli nominati allo stesso modo per dire il regista piuttosto che lo scenografo piuttosto che il fonico o l'operatore ma ovviamente le proprie di queste persone capacità e professionalità si differenziano soprattutto dallo stile che si va a creare quindi iniziate a vedere nella vostra testa una ripresa di un film e una ripresa di un format televisivo due mondi completamente diversi sia ovviamente nell'aspetto del professionista in sé quindi nel tipo di inquadratura del movimento di camera comunicano due cose differenti sia dal punto di vista tecnico a livello di strumentazione che anche lì c'è un mondo che racconta a livello di colorazione di riprese mondi differenti quindi qui in grosso modo abbiamo fatto una carrellata giusto per familiarizzare con qualche nome che indubbiamente l'ho inserito ripeto sempre per non dare per scontato perché poi dico magari per noi è scontato queste figure magari per chi fa altro nella vita oltre magari allo sceneggiatore che si può appunto già sapere come figura comune regista il produttore come vi dicevo la persona alla quale se avete un'idea del format vi suggerisco andare a bussare perché deve essere deve piacere l'idea e potervela anche sostenere economicamente e se c'è questo a quel punto si può chiamare un produttore esecutivo che farà un piano di costi vi farà tutta una programmazione una scaletta di produzione e da lì si può effettivamente sapere il costo si può sapere la fattibilità si può apprendere anche dei consigli di realizzazione molte volte noi ahimè siamo come dire non solo il braccio ma a volte ci spingiamo anche nel dare dei consigli quindi si possono analizzare anche diversi aspetti il format potrebbe anche trovare delle piccole differenziazioni che poi ci migliorano l'idea per questo insomma non ci sono limiti per cui il direttore di produzione io qua ho messo organizzatore per semplificarci ancora di più che ahimè è quello di cui mi occupo spesso io che è un po' la figura un pochino più rognosa secondo me perché si deve occupare di tutta l'organizzazione della troupe quindi da chi chiamare chi coinvolgere organizzare ok si deve fare bene tale ora quando come ovviamente nelle grandi produzioni queste figure sono ovviamente affiancate anche dalla segreteria di produzione quando giustamente il lavoro diventa molto molto più complesso dove bisogna coinvolgere tantissime persone tra attori comparse eccetera cioè troupe e quant'altro figura fondamentale ecco qui Domenico che dopo di noi farà anche lui il suo intervento figura fondamentale anche quella dell'attore stavamo parlando di realizzazioni di produzioni video direttore della fotografia direttore della fotografia è un ruolo altrettanto importante quanto quanto il regista esatto perché prima abbiamo visto all'inizio degli spot pubblicitari io faccio sempre riferimento a quello che è la cosa più veloce per parlare in questi contesti e come avete visto ogni spot ha delle illuminazioni ecco i punti luce parlava anche Alessandro la fotografia anche in video c'è fotografia perché un'inquadratura è una fotografia nel momento in cui non si vuole fare una produzione regionale dove basta che si mettono due punti camera o magari in questo nostro contesto per poter dare la possibilità di seguirci in diretta ci siamo arrangiati tra virgolette senza dover allestire illuminazioni o scenografie nel caso in cui invece bisogna fare una produzione vera e propria bisogna analizzare ogni aspetto l'importanza delle luci delle ombre su un personaggio piuttosto che su un'ambientazione il direttore della fotografia dà lo stile del carattere mi piace anche pensarla come il pittore del tutto mi spingo a dire un qualcosa così magari in più perché dà appunto il carattere dell'immagine la comunicazione visiva lo scenografo ovviamente penso lo conosciate benissimo colui che allestisce un po' il tutto e quindi crea appunto la scenografia in questo caso il costumista vediamo per scontato che nello spot quello va con i ginsini spot così come anche nelle produzioni di film ma in realtà il costumista ha un altro importante ruolo perché anche lì è comunicazione dallo stile come sei insomma in questa produzione trasmetti uno stile trasmetti un'epoca trasmetti tutto la personalità del personaggio insomma vedo la signora col bel gilettino diversamente da lei che ha la maglia rossa siete due personaggi completamente diversi magari poi ci si scambia una chiacchiera e magari invece avete due persone opposte da quello che i vostri abiti ci stanno comunicando e così via il makeup artist ovviamente quindi trucco parrucco e quant'altro il direttore musicale figura fondamentale anche qui perché la colonna sonora e la musica che accompagna un film piuttosto che anche un format ovviamente con tipologie diverse un format è una cosa un film è un'altra ecco perché all'inizio dicevo produzione cinematografica e televisiva sono due cose completamente differenti creano creano i momenti nel format ti creano momenti di suspense ti creano i momenti di attenzione piuttosto che dei momenti che vanno a scindere proprio delle fasi di gara differenti in questo caso abbiamo fatto l'esempio di una gara operatore macchinista quindi colui che si mette lì a riprendere quindi a seguire il lavoro che viene detto dal regista ok quindi movimenti di camera riprese e quant'altro fonico indubbiamente è importante altrettanto perché se si fa appunto in un format televisivo a volte anche in diretta anche qui bisogna in fase scusa io parlo e non avendo proprio realizzato un percorso parlo un po' a braccio anche lì quando si sta a pensare a un format un altro punto fondamentale è pensare ma voglio fare un format che vada in diretta oppure no perché anche qui le variabili sia di costo che di realizzazione di organizzazione dell'intera produzione sono completamente differenti oltre che anche l'aspetto della diffusione analizzare la fascia oraria analizzare appunto quale emittente trasmetterla e così via ci sono problematiche indubbiamente differenti come nel nostro caso siamo in diretta se c'è una problematica ora come diceva un famoso conduttore il bello della diretta anche l'errorino viene accettato ma fino a un certo punto nel caso di un format e gli attori le comparse ovviamente il montatore video l'abbiamo citato prima e infine il distributore colui che si fa carico di questo prodotto e pensa a distribuirlo a diffondere a far sì che entri nelle vostre case che venga quindi anche acquistato trasmesso diffuso visto quindi questa è una ovviamente carrellata velocissima molto veloce non so se vuoi aggiungere tu qualcos'altro diciamo una cosa importante è rappresentativa di un'azienda quello che abbiamo visto è veramente un'azienda ma soprattutto tutte quelle figure che avete visto devono crederci nel progetto cioè non è che ok faccio questo lavoro mi danno tot è bello faccio la mia professione lì nel caso di un format soprattutto bisogna crederci bisogna capire dove si sta andando insieme proprio così funziona così altrimenti il progetto non avrà mai quel respiro che la produzione o comunque l'autore o lo sceneggiatore ha immaginato nella sua stanza sognando come un bambino perché in realtà è quello che bisogna far accadere bisogna ritornare a sognare le persone o comunque a percepire un qualcosa assolutamente sì prego il regista regge ha scritto una battutina regista di solito si siede alla sedia e comanda dirige allora il regista se vogliamo è una bellissima domanda la sua perché effettivamente a me piace sempre dire molti ricordano ad esempio i film dal regista dimenticando dando poca importanza ad esempio allo sceneggiatore che invece ti crea tutta la storia il regista in ambito di un format così come uno spot piuttosto che in un film ancora di più anche se poi si differenziano per alcune specializzazioni diciamo però in sostanza prende lo script il testo quindi la sceneggiatura nel caso di un film una scaletta appunto di produzione nel caso di un format l'ideazione quindi la sinossi eccetera eccetera prende questo testo che è stato ideato e scritto e inizia a trasformarlo in immagini suoni in un solo linguaggio in un linguaggio audiovisivo quindi se io ho l'idea di realizzare questa mattina abbiamo fatto un piccolo intervento su degli spot che ho tenuto io per quello alla fine torno a quello per riagganciarmi a chi era già presente nel momento in cui c'è l'ideazione bisogna renderla pratica quindi se io voglio far vedere che un bambino nel caso di uno spot che abbiamo visto c'è un bambino che deve fare un'azione deve essere rimproverato da un signore come lo mostro io come lo riprendo questo bambino gli faccio vedere un primo piano oppure non lo voglio mostrare in volto voglio che la telecamera gli giri intorno per pian piano scoprirlo da dietro e fare vedere il suo volto e quindi l'espressione magari dispiaciuta ecco è la scelta di come rappresentare quella idea in questo caso del format quei momenti salienti ad esempio di una gara come rappresentarli in maniera visiva e anche audio in questo caso quindi si va a definire lo stile che si dà quindi i movimenti le inquadrature correggimi se sbaglio aggiungi quel che vuoi aggiungere si va a definire a rappresentare esatto in video quello che è un testo tant'è vero che ad esempio molti registi prendono anche magari storie riprese da libri e lì la sfida anche di molti registi dove in alcuni casi si è riusciti ben a rappresentare quello che poteva essere l'intenzione dell'autore dello scrittore in altri casi no o addirittura anche molti lettori che possono rimanere delusi perché anche questo è un'altra bella mi dilungo un'altra bella un'altra bella sì Stefano assolutamente se vuoi venire qua tanto siamo tutti esatto esatto quindi esatto quindi anche giustamente Stefano dice oltre a fare la prima fase diciamo dallo scritto a renderlo concreto poi nel momento in cui si chiama tutta la produzione esecutiva e quindi si chiama l'operatore X Y l'attore questo e quest'altro il regista quello che lui ha quello che è lo sceneggiatore o l'ideatore ha pensato quello che lui ha immaginato e vuole realizzare lo può fare attraverso anche il dialogo con l'attore con l'operatore per trasmettere a lui quello che è nella sua testa quindi esatto quindi la parte audiovisiva è importante anche quindi il regista è presente infatti indubbiamente sul set proprio per far sì che tutti possano rispettare quello che è stato pensato di realizzare e quindi in molti casi ci sono appunto registi che vengono come dire osannati anche dagli attori perché ci nascono dei bellissimi rapporti e quindi ancora di più se il feedback o la relazione è amichevole piacevole si riesce a comunicare meglio e quindi a capire già cosa si aspetta lui regista da me di un'espressione di un dialogo di un momento e viceversa quindi è un ruolo fondamentale 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 per far sì che il tutto diventa concreto e realizzabile e quindi in un certo senso coordina anche effettivamente tutte le varie figure affinché quello che è stato pensato possa essere realizzato e sono poi tante infatti le altre sfumature che un regista può metterci entra molto infatti ecco perché ogni regista poi ha un suo stile torniamo allo studiare la regola ma poi anche andare un pochino oltre perché si rappresenta anche molto il proprio modo di essere il proprio modo di vedere qualcosa quindi il proprio stile la propria personalità ecco perché ogni regista poi tira fuori un suo film che poi negli anni diventa riconoscibile anche senza sapere da chi è stato realizzato ma lo si riconosce dal suo modo di rappresentarlo insomma è bello pure dire che insieme al regista c'è comunque il lavoro fotografico e quindi in realtà è una co-regia lì non c'è mai solo una persona a parte i registi geni come Sergio Leone eccetera che erano autori sceneggiatori eccetera eccetera ma di solito è meglio stare in team e fare il tutto certo poi ci sono contesti dove si creano appunto dei team ormai di lavoro consolidati dove infatti anche ad esempio in molti film si vedono magari i film di un regista e ritorna sempre più o meno lo stesso attore si creano anche queste bellissime relazioni e quindi relazioni in senso lavorativo ovviamente scusami no no è questo in pratica è importante pure il direttore della fotografia che in realtà è un altro regista in tutti gli effetti perché comunque colora la scena insomma certo lo studio delle luci e tutto e sì anche lui giustamente deve riuscire a rappresentare quello che si vuole io ho messo questa slide appositamente vuota i primi passi da fare facciamo due tre consigli che già vedo che siamo fuori orario però i primi passi da fare secondo me che penso che anche nell'intervento di Stefano è stato anche detto immagino sicuramente conoscendoti anche se mi son persa qualche pezzo osservare tantissimo indubbiamente anche in questo caso osservare tanto guardare cosa è stato fatto già cosa sta andando adesso ma anche usare con la propria fantasia quindi i primi passi è anche mettersi in gioco quindi non come dire conoscere la regola torniamo sempre là ma neanche ingabbiarsi in uno schema fin troppo strutturato di quello c'è tempo per arrivare all'aspetto tecnico quindi dall'idea a fantasia a poi trascriverlo ovviamente ci sono delle fasi c'è una sinossi che va realizzata ci sono delle fasi che ovviamente poi ad esempio noi nel corso che realizziamo andiamo poi a dire a creare nulla di nascosto ovviamente ma è molto lungo più che altro da affrontare all'una meno venti quindi i primi passi da fare sicuramente i consigli che do è di osservare tantissimo quello che già è stato fatto ma con un occhio anche critico un occhio critico per capire anche del perché quello che a noi ci sembra strano se vediamo dei format nazionali in realtà non è messo lì a caso anche un singolo momento anche un piccolo intervallo anche un passaggio particolare e poi indubbiamente bisogna scrivere la propria idea e magari farsi anche aiutare da chi già fa questo di mestiere se si ha intenzioni e ambizioni così concludo come nel caso di molti ragazzi che ci mandano le idee pensano che basta scrivere ho pensato di vorrei fare un format mi ricordo una ragazza su le badanti stranieri che le seguiamo in casa mentre dico sì vabbè ok però cosa vogliamo dire cioè ci deve essere o una sfida quindi dobbiamo tenere del suspense anche nello spettatore capire dove vuole andare a finire questo inizio di programma quindi per tenere dobbiamo avere in mente di tenere sempre lo spettatore incollato quindi gli dobbiamo creare dei motivi affinché possa anche voler voglia di tornare e rivedere la puntata 2 e 3 e 4 oppure se vogliamo raccontare un qualcosa e allora lì scatta un'altra tipologia vogliamo intrattenere le tipologie sono diverse ultima domanda che vi lascio per concludere così ci riflettete spero se qualcuno di voi vuole iniziare ad intraprendere perché questo convegno appunto chiamiamo convegno questi interventi parlano appunto dei mestieri creativi ne sono tanti come già in questa piccola selezione della giornata abbiamo creato capire innanzitutto cosa vi piace fare se vi piace trasmettere un qualcosa a livello di operatore a livello di regia a livello di autore se vi riconoscete più uno stile cinematografico quindi raccontare emozioni storie e quant'altro per veicolare un messaggio oppure televisivo e quindi in quel caso come tutti i programmi l'idea che viene fuori è un'altra tu cosa sceglieresti quindi l'unica domanda che mi viene da dire a conclusione del tutto è se vi volete approcciare in una delle figure dell'aspetto di produzione esecutiva dovete capire se ok io voglio fare l'operatore voglio fare il montatore video bene iniziate ad analizzare se vi rivedete più nel lavorare in una produzione cinematografica dove dovete montare facciamo l'esempio dei film e che ovviamente hanno tutta una loro struttura o se far parte di una produzione televisiva e a quel punto ovviamente anche un montatore ha un'altra bella specializzazione in quel caso io non parlo più perché sennò vi annoio vuoi aggiungere qualcosa Giuseppe? se aggiungo allungo mezzo no se volevi fare anche tu una conclusione su questo piccolo intervento ok niente spero se ci sono altre domande fatemi pure perché poi sono stimoli anche per poter affrontare l'argomento altrimenti continuiamo come volete niente li abbiamo annoiati no ah c'è una domanda vai questa è una bella domanda allora sì e no questo è un ibrido torniamo al discorso di Alessandro sono quelle forme ibride allora per produzione televisiva ovviamente si intende a tutti gli effetti televisiva questo che significa anche la differenza col cinematografico e il mezzo di diffusione che in un certo senso detta determinate regole perché un conto è essere seduti in poltrona e vedere questo audiovisivo quindi questo format all'interno della televisione oltre agli aspetti tecnici che sono indubbiamente diversi quindi dall'utilizzo di determinate telecamere che sono diverse da io faccio questi esempi a balzo giusto per darvi delle idee dalle telecamere che se appunto si tratta di produzione televisiva sono differenti proprio a livello di strumentazione da una telecamera cinematografica ancora di più nel caso del web il web è detta delle regole molto veloci molto molto veloci dove è impensabile far stare 40 minuti una persona seduta davanti a un computer o su uno smartphone anche se poi anche qui questi tra virgolette chiamiamoli nuovi media anche se ormai sono stravecchi sono diventati però ancora definiti nuovi media si stanno in alcuni casi anche come dire facendo il loro spazio perché ormai i famosi e lo abbiamo visto nello spot questa mattina uno spot della durata di tre minuti che ha fatto un milione di visualizzazioni nel giro di una settimana o poco più che era impensabile cioè in un'ottica ecco perché dico di regola in un'ottica di regola no allora versione web 15 secondi no questi hanno fatto versione web tre minuti eppure eppure chi ha fatto la produzione quindi dalle riprese a chi ha fatto il montaggio e tutto di questo spot è riuscito a tenere ma soprattutto dall'idea io credo in quel caso poi comunque pubblicherò le cose che abbiamo detto questa mattina così se vi siete persi qualcosa è riuscito a tenere alto l'attenzione per tutto questo tempo quindi molte volte ecco è fondamentale l'idea ogni parte è fondamentale è fondamentale l'idea è fondamentale come viene realizzata ma il web ci sta anche insegnando forse questo è stato il motore anche della tua domanda ci sta anche insegnando come basta quasi anche avere un telefono se poi si ha un'idea originale certo è ovviamente che stai creando un format di un certo tipo quindi devi essere consapevole che stai creando un format di amatorialità quindi tutto nasce dall'obiettivo che ci si pone quindi si può parlare di produzione televisiva anche in una produzione web io mi sentirei di dire nì pure io perché esatto per produzione televisiva si immagina proprio una troupe televisiva però ripeto il tutto può essere riadattato per la diffusione web o in parallelo anche qui si creano ovviamente delle sinergie con i mezzi di comunicazione per cui talmente che il lavoro ecco se si questa domanda se si ragiona in termini di comunque la produzione sarà diffusa in tv e poi la utilizzo per il web allora ti posso rispondere sì perché viene pensata per la tv e quindi ok per il web solo per il web non so sinceramente se fino a che punto potersi spingere sul dire sì diciamo diciamo anche che la la soluzione ibrida ha un'accezione comunque positiva nel senso una produzione nel web potrebbe essere benissimo fatto con con grande impegno e con belle soddisfazioni non è detto che la produzione web sia minore di minore qualità assolutamente no no assolutamente infatti abbiamo molti esempi del contrario ecco un po' sì assolutamente questo sì però nel momento in cui si va a ideare esatto a quel punto però lo devi costruire in funzione di quel mezzo ecco perché esatto ecco perché le differenze poi ecco dire sì non mi spingo fin troppo però se tu fai assolutamente sì puoi fare una produzione finalizzata al web e in quel caso la puoi anche ben pensare ci sono anche degli esempi magari anche una web serie per dire appunto appuntate ma può essere anche un format che coinvolga un altro tipo di struttura quindi intrattenere in un altro modo creare delle competizioni e quant'altro sì però in quel caso nell'ideazione lo devi già prevedere se vuoi fare un qualcosa di finalizzato ma proprio perché ripeto anche considerare faccio esempio banale anche il formato video che viene fuori dalla ripresa può essere diverso è diverso beh adesso con il digitale grosso modo è stato superato però in un'ottica di formazione ti devo dire che comunque grosso modo bisogna anche considerare il mezzo dove si va a diffondere a livello di concetto e di idea sì lo puoi fare anzi buttatevi nel farlo non vi limitate perché poi ci sono anche degli esempi di ragazzi che nel farlo ovviamente non soltanto per fortuna non soltanto per idea geniale ma io sono convintissima anche per altri meccanismi come molte web serie che ad oggi vediamo stralaicate però in realtà andiamo sullo storico di questi ragazzi di queste produzioni ci sono anni 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 magari un'idea che hai adesso in mente tu ci inizi a lavorare e non è detto che fra sei mesi hai sei milioni di visualizzazioni quindi questo è un po' un mito anche che vorrei sfatare perché vedo anche molti ragazzi che prendono l'euforia ah ma pure io avevo questa idea sì bene però bisogna lavorarci bisogna lavorarci anche molto su un discorso di diffusione anche a livello di comunicazione anche il fatto di farsi ricondividere non è così a fortuna però sì io ti dico prova a farlo e anche lì mi raggancio all'intervento che fece Maddalina il vero talento si vede anche non per forza con la strumentazione con 20.000 euro di telecamera ma benissimo se un'idea è vincente se nell'uso web può essere anche realizzata con della strumentazione molto meno costosa però bisogna lavorarci quello sì ci sono delle regole di base che proprio a livello proprio di percezione dell'uomo che vede il video devono essere rispettate quello indubbiamente altrimenti si perde l'attenzione non diventa interessante eccetera eccetera quindi sì si può parlare di produzione web mettiamo così aggiungiamo televisione o web magari in futuro diventerà solo web e finisce tutto alla fine cambiano solo i mezzi però da lì nasce se si vuole fare qualcosa di bello ripeto appunto la parte di preproduzione tutte quelle cose che ci siamo dette prima di azione preproduzione capire come strutturare prima di prendere e fare rec per dire regge il ciak vogliamo usare un termine invece cinematografico bisogna pensarla bene prima diciamo che un'azienda conviene più sponsorizzare una produzione web comunque a minori costi rispetto a una produzione televisiva che ha maggiori costi costi esatto spostiamoci dalla realizzazione perché se si fa un format televisivo deve essere diffuso in televisione può prendere la piega dell'ok non sono riuscito ad inserirlo su un canale nazionale perché la mia intenzione era di andare su real time faccio un esempio non si è riusciti si può riprendere come dire il progetto magari rimodularlo un pochino per il mezzo web e indubbiamente ha un costo decisamente inferiore rispetto a inferiore potrebbe convenire di più per l'azienda dipende da tanti fattori infatti dipende da tanti fattori grazie a tutti